Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Marvel Champions LCG e gioco di carte della Fantasy Flight Games localizzato in italiano da Asmode Italia che io ringrazio di cuore per averci offerto questa copia per la recensione grazie ragazzi, è sempre un piacere immenso collaborare con voi e gioco di carte LCG non collezionabili da 1 a 4 giocatori. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Marvel Champions, il gioco di carte, edizione italiana a cura di Asmode Italia, è un LCG. Gli LCG sono giochi di carte detti Living Card Game che sono set che comprate e ci giocate direttamente. Non sono giochi di carte collezionabili, ad esempio Magic, Mutant Chronicles e cose del genere quindi non c'è la rarità della carta, non c'è lo sbustamento, magari carta comune, non comune, rara anche lo scambiarselo, no, fra giocatori e tutto quanto, compra vendita, no. I Living Card Game sono giochi che voi comprate e potete giocare però hanno tante espansioni ad esempio che sono anche assolutamente non necessarie perché già col gioco base potete giocare tanto tempo ma ad esempio Marvel Champions mi piace usare, non lo so, Capitano America rispetto ad Iron Man magari con 15 euro, quello che è, mi compro il set di Capitano America con tutte le carte e posso giocare oppure voglio giocare altre missioni, altre avventure. Tutte quante le espansioni e pack che escano di queste Living Card Game le potete comprare ma sono opzionali, potete giocare anche una vita semplicemente col set base quindi cosa sono? Sono giochi di carte non collezionabili. Ora, apro una piccolissima parentesi, io ho sempre, tra molte virgolette, eh, non snobbo niente però ho sempre un po' snobbato questi giochi di carte perché io, e chi mi segue il mio non ce lo sa guardate qui dietro ho tutti i giochi di miniature, cioè tutti i giochi che sono qui sono tutti i giochi di miniature a parte, vabbè, qualcosa di piccolino, però dove io stesso mancavano tipo di expanse ho creato le miniature quindi ce l'ho messa anche dove non c'erano, a noi ci garbano, a me e mia moglie, i giochi di miniature e ho sempre detto, ma giocare con le carte mi sembra un po' non andare a perder senso, no? Invece, lo ammetto, ignorante e caprone io, sono veramente molto belli, una figata, sono divertenti perché anche se non c'è la componente miniatura anzi per sé, c'è talmente tante carte e tante opzioni che magari in un gioco di miniature non puoi fare e che in un gioco di miniature magari della Marvel sarebbe stata attacca e difendi. Attacca, muovi l'omino, vai avanti, magari non dà giocare qui no, potete fare talmente tante azioni che in un gioco normale te le potresti andare a dimenticare e poi, ad esempio, sempre citando la Fantasy Flight, Marvel Champions è un gioco cooperativo contro, non è a storia, nemmeno a campagna, contro dei boss, dei cattivi tipo Thanos e cose varie c'è il Signore degli Anelli che è un cooperativo con una storia c'è Arkham Horror che è un cooperativo horror con una storia oppure abbiamo visto anche altri giochi tipo Star Wars che invece ha un PvP tra la ribellione e l'impero e sono giochi veramente veramente molto interessanti e questo come vi ho detto invece è un full cooperative dove andate a collaborare per tre missioni principali che poi sono i tre cattivi più famosi anche del cinema e dei fumetti della Marvel e nel set base ci sono cinque supereroi che sono quelli che poi vedete qui nella scatola davanti e avete diversi mazzi base per ogni eroe oppure potete anche andarli a mischiare per crearvi qualcosa di vostro comunque poi vi spiego un pochino come funziona e tutto quanto ma prima di tutto unboxing confezione del gioco bella grande e piena zippa di contenuti no perché comunque si parla di un gioco di carte comunque è bella ricca veramente e soprattutto ci sono tante 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 carte e bellissimi disegni sopra come potete vedere anche in copertina veramente spettacolari gioco di carte Living Card Game della Fantasy Flight Marvel Champions il gioco di carte e ve lo dite edizione italiana a cura di Asmode Italia apriamo regolamento di gioco con in copertina Iron Man e ogni personaggio ogni supereroe ha anche la sua nemesi da combattere quindi lui è Whiplash ad esempio l'uomo ragno ha avvoltoio perché vi ricordo che la prima nemesi storica dell'uomo ragno non è stato Venom che è apparso molto dopo ma era avvoltoio e poi abbiamo tutti insomma Capitan Marvel e tutti gli altri ed è veramente fatto bene tradotto ancora meglio e poi una cosa che io adoro perché sarò duro ma mi aiuta nella lettura di un manuale soprattutto a leggerlo meno volte possibile a fugare ogni dubbio esempi, esempi, esempi se ti mi fai vedere l'esempio mi sembra proprio come se ci fosse una persona qui davanti a me che mi spiega le regole ed è una cosa molto interessante poi, solito della Fantasy Flight, il compendio quindi se avete una regola che non vi torna un nome di qualcosa, di un attacco invece di girare per mille pagine andate qui, l'andate a cercare e poi tutti i componenti che sono segnalini, vari punti ferita e vari misuratori che servono per misurare e tenere conto dei punti ferita dei vostri supereroi e punti ferita invece del boss finale mentre invece i nemici, quelli normali li buttate sopra token di punti ferita non hanno un counter anche perché di solito con uno o due danni li fate fuori gli scagnozzi e quelli non c'è da tenere conto mentre invece per il vostro personaggio nel boss finale c'è sempre un counter dei punti ferita poi pirulì di plastica nera per andare appunto a montare quello che vi ho appena fatto vedere carte status che sono tipo stordito robusto quindi potrebbero essere cose negative o positive e poi tutti quanti i set di carte addirittura una cosa che ho apprezzato da morire il gioco vi dice la prima missione giocate quella dove ci sono come personaggi l'uomo ragno e capitano marvel la fantasy flight ci viene incontro starter deck uomo ragno pronto starter deck capitano marvel pronto così voi potete sbustare e giocare senza dover andare a dire ma dove sono le carte di iron man aspetta fammela andare a cercare per fare il setup no vi vengono già incontro dicendo vi giocate con questi due eroi in queste avventure già qui che vi abbiamo preparato così fate prima vi faccio vedere un pochino come funziona all'inizio c'è un setup ovviamente di missioni e ci sono molti segnalini per i punti feriti agli attacchi soprattutto le risorse che sono una cosa importante del gioco voi dovete andare a fare il setup a seconda del cattivo che andate a combattere magari andando a combattere un Thanos sarà completamente differente a fronteggiare un altro tipo di boss o comunque rispetto a un Ultron che magari potrebbe avere anche un altro setup e i set di espansioni lo vanno a ampliare veramente molto questo panorama per poi potete anche provare a fare qualcosa di vostro un po' andando a mischiare le carte cose del genere ma la cosa principale è che la missione principale il boss che dovete fronteggiare ha un setup suo descritto nel manuale di gioco voi andate a fare questo setup e poi ovviamente iniziate a giocare con il set di carte come vi dicevo anticipatamente dell'eroe Spider-Man cioè il suo set di carte scritte nel manuale se volete iniziare con un mazzo base oppure potete andare a creare proprio un mazzo vostro ovviamente carte magari di Spider-Man sue non potranno essere utilizzate da Iron Man o da Shulk però avete anche delle carte comuni e con quelle potete creare un mazzo vero e proprio perché le carte comuni sono carte che puoi dare a qualsiasi eroe tipo attacchi superpoteri e cose del genere la carta del personaggio ha sempre una doppia faccia una faccia che è l'alter ego Peter Parker e una faccia che è l'atto supereroe l'uomo ragno quindi il gioco è molto bellino e divertente che voi potete giocare sia nei panni anche tutta la partita praticamente di Peter Parker come anche dell'uomo ragno giocando nei panni del supereroe quindi l'eroe mascherato andate a combattere il male proprio ammazzolate a botte quindi andate a eliminare gli scagnozzi andate poi a combattere il boss giocando dalla parte di Peter Parker dell'alter ego non andate a combattere i cattivoni ma andate a cercare di sopravvivere alla trama che loro stanno creando perché il senso del gioco è che ci sono missioni principali e missioni secondarie su cui vengono messi dei segnalini per delle carte 20 durante la fase dei mostri il mostro potrebbe attaccarvi se siete un supereroe se siete nella fase invece alter ego potrebbe invece andare a fare la propria missione visto che non c'è nessuno che gli sta mettendo i bastoni fra le ruote quindi lui va a fare la sua missione e quando riesce a comprerla mettendo di segnalini missione sopra le carte missioni principali secondarie avete perso quindi laddove voi come supereroe andate a combattere proprio a pestare ad ammazzare i mostri gli scagnozzi e il boss andate invece nella parte alter ego a cercare di fermare indagare e fermare quello che sta facendo quindi dovete giocare un po' un po' perché se da una parte non c'è scagnozzi sul tavolo c'è soltanto il boss e voi siete a full punti ferita o lui a full punti ferita quindi magari anche con tutto un attacco giocando carte o giocando le vostre abilità speciali non ce la fate a buttarlo giù ma la trama lui sta per portarla a termine conviene questo turno giocarlo da alter ego per andare a bloccare la trama questo è un po' un funzionamento che potrebbe sembrare un po' strano ma poi comunque spiegato bene da Asmode anche nella traduzione fatta veramente bene ed è una bischerata sto gioco è veramente una cavolata e avete variazioni che potete fare utilizzate la vostra carta per attaccare la trama attaccare nemici con i vostri poteri oppure giocare carte che avete in mano alcune o alleati alleati che potete usare per attaccare per difendervi o potete usare i vostri attacchi di attacco di difesa o anche gli alleati per difendere un vostro compagno e qui entra la componente cooperativa quando andate a giocare una carta se la carta ha un prerequisito lo dovete fare se la carta ha un costo di attivazione in risorse voi dovete avere quelle risorse quelle risorse se le avete già immagazzinate le utilizzate se non le avete potete giocare una carta che crea risorse che sono di diversi tipi se non avete una carta che crea risorse scartate carte che avete in mano che in fondo a sinistra c'è scritto che tipo di risorsa crea quella risorsa la usi per andare a utilizzare una carta se una carta ti dice due risorse differenti devi averle quindi scartando quelle appropiate se una carta ti dice due risorse qualsiasi ti scarti due carte che danno risorse ed utilizzi quel tipo di colpo potrebbe essere un attacco un superpotere una cosa del genere e dovete andare avanti quando sconfiggete il boss se lui ha uno stadio 2 lo passate allo stadio 2 se non ce l'aveva è sconfitta avete finito la partita se invece c'era una trama da risolvere quando finite la prima missione se c'è una seconda missione andate avanti uno stadio 2 della missione principale se c'era uno stadio soltanto anche lì avete finito se il vostro personaggio arriva a 0 punti ferita siete fuori dall'avventura fuori dal gioco non potete tornare in vita e cose del genere se tutti quanti finite a 0 punti ferita la partita è persa o la partita è persa se il boss come vi ho detto all'inizio riesce a completare le trame che deve portare avanti quindi il funzionamento del gioco ragazzi è veramente veramente molto semplice valutazione finale ragazzi è un gioco semplicissimo io avevo un po' paura di questi living card game inizialmente sono sincero perché ho detto scettarmente tanto una masnada di carte anche per setappare questo è facile però ci sono giochi tipo il signore degli anelli che da setappare sono leggermente no complicati nei complessi però forse un pochino più lunghi più prolissi o addirittura un gioco che a me piace da morire è Legendary Encounters che per fare il setup iniziale ti senti male perché devi trovare i mazzi della prima avventura del primo film di Alien i mazzi del secondo i mazzi dei vari personaggi ci vuole più a setappare che a fare una partita qui no qui è molto immediata e veloce e poi non avete voglia di farvi il mazzo del vostro personaggio sul manuale uomo ragno carta 1 carta 2 carta 5 carta 10 le mettete insieme le mescolate pronti si gioca e quindi è comunque molto facile a livello di regole è veramente semplicissimo poi come in tutti i giochi della Fantasy Flight c'è il compendio delle regole quindi se lo tenete sotto mano se non vi ricordate un effetto o qualcosa ce l'avete lì è un gioco che si intavola bene chiede poco posto è molto cooperativo per il fatto che voi potete intervenire per aiutare dare manforte o difendere un vostro compagno quindi potete salvare la vita ad un altro giocatore e per tutti gli amanti della Marvel ma non solo secondo me è un gioco divertentissimo e che potete fare imparare anche secondo me ai più piccoli o chi non è molto avvezzo come me living card game e giochi di carte quindi promossa a pieni voti io ringrazio Asmodi Italia per avermi fornito questa copia per le recensioni vi ricordo se lo volete ordinare direttamente in sovimpressione e primo link in descrizione da Get Your Fun al miglior prezzo sul mercato vi ricordo che se non lo trovate in lista di contattarli privatamente perché faranno il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato che non vuol dire scontato faranno il possibile però per trovarvi anche giochi a parte che non siano introvabili fuori catalogo quindi al miglior prezzo sul mercato non lo volete pagare tutto insieme lo potete pagare in tre rate senza nessun tipo di finanziamento e spese di spedizioni postali sempre comprese in tutta Italia fatemi sapere cosa ne pensate e ve l'ho detto siete fan della Marvel non ve lo potete far scappare è veramente divertente e questo mi ha inserito nel mondo degli LCG e infatti ne ho già ordinati c'ho già Star Wars ho già ordinato Arkham Horror tutti che ve li porterò sul canale il signore degli anelli mia moglie non è più più abbiamo la casa piena seppa di carte però iniziano a piacere da morire le ho snobbati no snobbati non è una parolaccia le ho tenuti un po' da parte finora invece forse ho trovato un altro tipo di gioco che potrebbe piacermi molto ciao ragazzi alla prossima ciao